Ok, l'ambulanza è uscita dal tracciato, infatti sono partiti la scuola, e allora eccoli ora, non si parla sul traguardo, i Gercini, 386, Poluzzi, ha morito. Allora il gruppo è quello che ritransita qui nel Ritulino e Berrino. In realtà metà dei figli foranno senza suono della montana, quindi diciamo che è una fase per confidire l'interlocutoria della gara. Il gruppo è allungato, si ripresentano già sul Ritulino da giro. 3-9-5, Giallariello ammonito, 1-8-8, Bavini ammonito. Ora si mettono in testa gli affletti della corrispondiva Bellusco. Ed ecco di nuovo il gruppo a transitare sul traguardo. Con Burr ci si è portato in testa. Ancora Burr a condurre le operazioni. Con Proverbio in seconda ruota. Ecco, doppio treno sul passaggio all'arrivo. L'arrivo, erano due treni. Ora il gruppo si allunga sull'azione ancora di Burr con Menegaldo in seconda ruota. Eccoli nuovamente al passaggio. Ancora Burr in testa. Al passaggio ci sarà il suono della campana e leggeremo delle eliminazioni. al passaggio. Al passaggio, campana. Giallariello in testa. 1-9-8, Fichera, prima punizione. 1-9-8, Fichera, prima punizione. in testa. In testa. In testa. In testa. Esparce. due eliminazioni sono stati fermati in 3.70 2.52 quindi saltano due eliminazioni qua non c'è eliminazione vai Sabe vai ecco il gruppo che si ripresenta sul traguardo 2.48 per passi 2.23 bene a Poglissot 1.88 si sfida 2.74 Milandri fermarsi 3.95 entra in disfida Campana ultimo giro ultima eliminazione 107 fermarsi quindi sono rimasti sono rimasti in se va a chiudere l'arrivo grazie sono qui grazie Grazie a tutti. 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 152 per Massi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.